Sopravvivono ancora le semiplote WIFI-X Quanto è bello vedere un ETR in transito Bello Eccolo lì, transita, è un ETR ETR 425 Esatto Doppia Direzione forse Porto Ceresio Mi sta transitando molto piano il treno, va, non lo so Carrozza è? Vedi, distanze ancora originali Colchini e Trinchi si abbassano ancora Dai E' 46.4 E' 39 Ah, è revampizzato Non erano originali, sono quelli revampizzati Molto bello questa carrozza Revampizzata 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 E la semi pilota ancora originale E' anche imbrattato Va, che stuprezze Dai Semi pilota passante Non è semi pilota ma zinga Forse andrà in centrale? Va E' un piano ribassato sicuramente Il treno su Furtano S5 24 5 5 8 T3 Nord Providente da Tremiglio E viva il tuo paese Ed è ora di 17 Il schiero è molto bello Italo Alta velocità I piani ribassati mi stanno rompendo le palle Dovevano essere ritirati dal servizio da quest'anno Invece aspetteranno ancora un po' Un po' peccato che non era quel per piacenza sperando che c'era una MDVC così le chiudere la porta manualmente dai piacenza, arricchiamo piani ribassati e revampizzati in stile TAF piani ribassati 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 come se piani ribassati La partenza è arrivato in Rock, il treno regionale per Piacenza, no, sono i Caravaggio, il treno Nord, non è Trenitalia, arriva, ecco là, vediamo il Caravaggio, l'ETR, nuovo, di Zecca, anche se quei treni guastano più e più volte, anzi si sono guastate più e più volte. Vedi, distanze ancora originali? Vedi, distanze ancora originali? Ovviamente vado a chiudere le porte del treno, dai, chiudiamo le porte, ecco fatto. Ecco qua, fatto, 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 ecco vediamo le medie distanze in partenza, anche se queste porte qui si possono chiudere manualmente, ho freddo anche, dai. che casino che fanno? La fanno? La partenza è per Pioltello e il treno in transito a binario E4. Scusate. Ovviamente sono le vecchie cataralti a binario, non scusate. Ora, ora, la partenza è per Pagania, non scusate. Ora, il coraggio è per Giorgio da Pagania. Ora, la partenza è per Pagania. Qui qua è la parte dell'acqua che formate? Una parte di Pagania è per i predari di Pagania, non scusate, non scusate. Pagania è per il treno e per il treno in transito, non scusate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A presto.